L'autonomia è molto altro nella tu per tu tra il presidente della regione Luca Zaia e il vice direttore di Media Nord-Est Ferdinando Avarino nei quattro anni dalla celebrazione del referendum con cui i Veneti hanno chiesto maggiori prerogative. Quattro anni e quattro governi, sottolinea Zaia, una trattativa complessa. C'è poco da star lì seduti in tribuna a dire dai dai adesso vogliamo il risultato. Io so qual è la mia forza nelle trattative che è quella del referendum. Dall'altra parte è un'interlocutora che deve firmare. Di certo una certezza ce l'ho che o la porto a casa o mi faccio dire di no formalmente. Ma questo vuol dire che comunque a Roma non hanno via di scampo perché se dicono di no ai Veneti voglio proprio vedere come la prenderanno i Veneti. Covid, vaccini, green pass, le proteste di queste ore. Zaia chiede al governo interventi per allentare la tensione. Noi abbiamo bisogno di una pacificazione sociale. Ecco, secondo me ha centrato il punto. Il muro contro muro. Lo dico a chi governa, mi ci metto dentro anch'io, che c'è l'obbligo di tendere una mano. Io non voglio dire che il governo deve rivedere la sua politica di sanità pubblica. Però ad esempio tendere una mano vuol dire autorizza i tamponi a fai da te. Olimpiadi, infrastrutture, promozione del territorio, Vinitali e un'anticipazione sul caso Prosec. Zaia è ottimista, l'iniziativa croata si può bloccare. Questa battaglia va avanti. Ma la perdono. Però in teoria la perdono, vero? Noi abbiamo, come si dice, brutto da dire, abbiamo una pistola fumante. Sono delle carte storiche che dimostrano che questi qua non hanno proprio tutto stottito di chiedere la riserva del nome. Infine le recenti elezioni amministrative con la sconfitta rimediata dalla Lega e dal suo candidato Piero Garbellotto a Conegliano, quella che è stata definita casa di Zaia, conquistata da Fabio Chies, appoggiato dal PD. Hanno fatto la loro corsa e il primo turno hanno vinto perché erano sette punti di più rispetto al secondo arrivato. Dopodiché il secondo arrivato giustamente si è battuto, ha fatto una bella campagna, ha fatto l'accordo con il PD. Senta, se facevamo noi l'accordo con il PD, ha messo un concesso che lo facessimo e ha messo un concesso che loro volessero farlo, il VOD avremmo preso noi e avremmo vinto. Quindi il PD è stato determinante, appunto.